Francesco Cincotti, amministratore delegato Alfa Cincotti Spa. Signor Cincotti, cosa si può fare dopo aver subito una calamità naturale? Fare ricorso ai professionisti che in caso di possesso della polizza ti hanno venduto la polizza e quindi aprire una denuncia di sinistra, perché l'auspicio è sempre quello che le coperture assicurative prendono sempre più piede, che aumenti la sensibilità su questo fatto, rivolgersi ad aziende di settore come oggi è presente qui ad esempio la Belfort, per un ripristino immediato in emergenza delle cose più importanti da salvare, da salvaguardare e soprattutto trarre esperienza per il futuro su forme di prevenzione o di piani di mitigazione dei danni. Questo sia a livello, diciamo, ritene individuale, domestico e sia sotto il profilo aziendale. Qual è l'aiuto materiale che l'Alfa Cincotti offre ai cittadini? Noi in genere interveniamo, è vero, dopo i sinistri, ma proprio l'esperienza dei sinistri ci dà la possibilità di divulgare la cultura della prevenzione, la cultura assicurativa, la cultura dell'analisi, del miglioramento e del monitoraggio del rischio. Quindi quello che possiamo fare è dialogare soprattutto con le aziende, cercare di portarli diciamo in una situazione di stabilità dove i rischi sono controllati e prevedibili al limite anche trasferiti, diciamo, al comparto assicurativo.